Confartigenato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 06 98. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee, telefono 079 27 1280. Tc12 ben trovati, edizione di giovedì 16 gennaio. Vediamo insieme i principali titoli della giornata. Nuovo parere negativo dal MIBAC per la Sassari Alghero, istanza al Cipe della deputata Dejana, Michele Paes, parla di beffa per l'isola. E come abbiamo visto dai titoli, partiamo con la cronaca regionale. Incontro questa mattina a Cagliari dell'assessore regionale trasporti Giorgio Todde, con le compagnie di navigazione per scongiurare che il caro Traghetti, a seguito della riduzione del tenore di zolfo nei combustibili, possa ricadere sui sardi, chiesto l'intervento del ministro Paola De Micheli. Il servizio è di Marco Sanna. Questo incontro nasce dalla volontà di trovare una soluzione al caro trasporti. Abbiamo ben presente la necessità di tutelare l'ambiente, mettendo in atto ogni buona pratica che possa abbattere le emissioni e contribuire alla lotta dell'inquinamento. Ma non possiamo accettare che questi costi ricadano sui sardi. È necessario un intervento di carattere ministeriale. Lo ha detto l'assessore trasporti Giorgio Todde nel corso del tavolo di confronto con le compagnie di navigazione e le associazioni di categoria convocato nella sede dell'assessorato. All'incontro, chiesto dall'esponente della Giunta Solinas con l'obiettivo di individuare ogni soluzione utile per scongiurare gli aumenti tarifari del 25%, hanno partecipato i rappresentanti di Mobi, Tirrenia, Sardinia Ferre, Scrimaldi, Grandi Navi Veloci, oltre ai rappresentanti della logistica Gruppo Niedo e le associazioni di categoria. Considerata l'esigenza di trovare una soluzione, prima che il costo delle merci venga spalmato sui sardi, abbiamo chiesto una proroga all'Unione Europea, ma non ci è stata concessa, ha continuato l'assessore. Siamo in attesa di una risposta da parte del Ministero dei Trasporti, a cui abbiamo chiesto un incontro urgente, e siamo pronti a qualsiasi interlocuzione utile a chiarire la situazione. In merito alla continuità territoriale, l'assessore Todde ha espresso preoccupazione sui tempi. Il Ministero è in mano a tutti i dati del traffico. Siamo in attesa che venga attivato l'iter per il bando della continuità territoriale, che deve partire con indagini di mercato. È stato illustrato questa mattina a Sassari, a Palazzo Ducale, dal comandante Gianni Serra, il report 2019 sulle attività della Polizia Locale alla presenza del Sindaco Campus. In aumento l'impegno del corpo su un importante raggio d'azione. Proiettato anche il video diretto da Alessandro Gazzale per la campagna Smartphone Zombie. Il servizio è di Emanuele Floris. 12 mesi di impegno su tutti i fronti. Nel report 2019 della Polizia Locale, illustrato stamattina in comune dal comandante Gianni Serra, emergono importanti risultati e criticità. Un anno che ha visto l'incremento delle attività in ambito giudiziario, ambientale ed edilizio, nonché gli interventi sulla sicurezza stradale. Azioni incisive, nonostante la carenza cronica di personale, aggravata l'anno scorso dalla fuoriuscita, rimarcata dal Sindaco Campus, di 58 unità. Proprio il primo cittadino nel ringraziare gli uomini del corpo si è soffermato sul riassetto progettato dalla sua amministrazione per sopperire al sovraccarico di lavoro. Un capitolo dolente si staglia nel consuntivo dell'anno appena trascorso e riguarda sia gli automobilisti che i pedoni, l'uso smodato dei cellulari. Per sensibilizzare sul tema si rinnova la campagna Smartphone Zombie con un video diretto da Alessandro Gazzale. Sono otto i morti registrati nel 2019 e oltre miglia di incidenti, da segnalare l'alta percentuale dei sinistri a Predaniedda, causati dalla mole di traffico e dall'imponente carico veicolare. Successo operativo per la stazione mobile di Piazza Castello e quella inaugurata a febbraio di Via Tavolara. Due presidi che hanno reso più sicure due aree a rischio. Oltre 5.000 gli accertamenti della polizia ambientale e 112 le violazioni amministrative. Un nucleo investigativo che combatte da vicino il degrado e l'inquinamento. Due problematiche croniche del territorio sassarese. Campus, in conclusione, ha annunciato la realizzazione di nuove rotatorie per snellire il traffico, una nell'intersezione tra Via Verona, Via Venezia, Gioscare e Rizzeddu, l'altra, che il sindaco si augura inserita nel centro intermodale, riguarderà Via 25 Aprile. Il Ministero dei Beni Culturali ha espresso parere negativo al proseguimento dei lavori sulla Sassari-Alghero, dopo una relazione tecnica della Direzione Nazionale Archeologia e Paesaggio. A darne notizia la parlamentare 5 Stelle Paola Dejana, che si è impegnata a presentare istanza al Cipe e a collaborare con la Regione. La delusione dei sardi nelle parole del Presidente del Consiglio regionale, Michele Paes. Parere affrettato, ha detto, una beffa per l'isola. Vediamo il servizio. Nessuna prosecuzione dei lavori per i due lotti della Sassari-Alghero, quello di congiungimento la città dalla cantoniera Rudas e quello tra il Bivio e Dolmedo e l'aeroporto. Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali per il Turismo, in conformità al parere tecnico-istruttorio espresso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arte e Paesaggio, ha espresso infatti parere negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale, alla localizzazione e all'approvazione del progetto definitivo strada statale 291 della NURRA, come proposto dalla società ANAS. A darne notizie alla parlamentare del Movimento 5 Stelle, Paola Dejana, è un'istanza molto delicata, afferma la deputata algherese, restano distanti le posizioni dei beni interessati da una parte e Consiglio Superiore ai Lavori Pubblici, MIT e Regione dall'altra. Nonostante i due pareri negativi, spiega Paola Dejana, lavorerò per portare a termine questa battaglia e presentare in tempi stretti l'istanza al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, considerato che abbiamo ancora questa possibilità. Informata la Regione, Paola Dejana afferma di voler agire in stretta collaborazione con l'istituzione locale. Un primo incontro è previsto nei prossimi giorni. A prendere posizione immediatamente, a nome della Regione, il Presidente del Consiglio, Michele Paes. Il parere negativo è un giudizio affrettato e una beffa per tutta la Sardegna, ha commentato. Completare la statale 291, afferma Paes, è un atto dovuto. Vigileremo e agiremo affinché questi pareri negativi non si traducano in un rallentamento dei lavori e in un'opportunità mancata per tutti i sardi. E' stata rinviata al prossimo 4 giugno l'udienza fissata per oggi dal Tribunale di Sassari nei confronti di un imprenditore di Trinità da Gultu, accusato di diffamazione dal direttore del Banco di Sardegna, Giuseppe Cucurese. Tutti i dettagli nel servizio. Rinviata al 4 giugno l'udienza che vedeva sul Banco degli Imputati per il reato di diffamazione un imprenditore di Trinità da Gultu, Claudio Addis, da parte del direttore del Banco di Sardegna, Giuseppe Cucurese. Il rinvio a giudizio era stato deciso 10 maggio scorso in un esposto del sostituto procuratore Maria Paola Zara, che aveva fissato la prima udienza al Tribunale di Sassari per oggi. Claudio Addis si è presentato con i suoi legali, l'avvocato Giorgio Antoci e Stefano Aliotta, ma il giudice incaricato era assente per motivi di aggiornamento professionale. Addis, che ha sempre sostenuto di essere vittima del direttore dell'Istituto di Credito, tanto da arrivare ad incatenarsi davanti ai cancelli della direzione generale, era pronto a difendersi dalle accuse. Francamente eravamo ansiosi di iniziare questo dibattimento penale per il quale sono imputato di diffamazione nei confronti del ragionier Cucurese, direttore generale del Banco di Sardegna. Devo dire di sentirmi molto sereno, purtroppo sono un po' deluso perché l'udienza è stata rinviata in quanto il giudice per impegni diversi si è dovuto assentare. Mi aspettavo la presenza di Cucurese in aula, invece non si è presentato, altresì dei suoi legali. Io sono fermamente convinto di quello che ho detto e penso di poter provare con certezza tutte le mie affermazioni senza nessun tipo di dubbio, senza nessun tipo di pentimento in quello che ho fatto. Certo è che essere messi nelle condizioni di dover aspettare altri quattro mesi per poter discutere di questa cosa mi suscita un po' di, non di ansia ma di aspettativa di questo processo che secondo me oggi avrebbe dovuto prendere inizio e essere portato avanti con anche rapidità, visto la rapidità con la quale è stato emanato il provvedimento di rinvio al giudizio. Incontro comunitario ieri nella scuola primaria di Santa Maria di Pisa. Rappresentati gli esiti del laboratorio di Cucito promosso dalle associazioni Foist e Intum insieme ai progetti futuri che intendono far rinascere il quartiere, il servizio e di Emanuele Foist. Una filiera di associazioni per sfatare il mito negativo di Santa Maria di Pisa. Ieri nella scuola primaria di Via Cilea si è tenuto un incontro comunitario per ripensare assieme il futuro del quartiere senza soffermarsi sulle note problematiche ma per una volta sulle sue risorse. L'occasione è stata data dal laboratorio di Cucito o la Stoffa Per, di cui le mamme partecipanti e i promotori hanno presentato idee, guide e risultati. Un'iniziativa nata in primis dalla scuola che da anni sperimenta forme di autofinanziamento per sopperire ai pochi fondi erogati dallo Stato. Le borse create dalle madri dei bambini, vendute tramite mercatini ai privati, hanno permesso di finanziare subito alcuni progetti educativi. In seguito, grazie all'attivismo delle associazioni universitarie Feust e Intum, la visione originaria si è strutturata, con il concorso della Fondazione di Sardegna, in un vero e proprio piano formativo durato meno di un anno. Le lezioni, tenute dagli insegnanti di arte e moda, hanno permesso agli allievi di creare gonne, bustini e vestiti. Con le risorse ricavate sono partiti con grande successo corsi di yoga, musica, scacchi, danza, dedicati ai più piccoli. Ora si lavora per ripetere l'esperienza aggiungendovi un carattere di managerialità. Con Pisa, piattaforma progettuale partecipata di innovazione e inclusione sociale attiva, il cantiere sociale resta aperto. Obiettivo? Provvedere a un cambiamento graduale delle dinamiche suavorevoli del quartiere. Tra i partner del progetto, il Comune di Sassari, ieri rappresentato dall'assessore di istruzione Rosanna Arru, Ida, i Salesiani, l'Arci e la cooperativa sociale Scenari Verdi. Si chiude qui questa prima parte del telegiornale, ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. Nuova Capolino, ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it Ben tornati in studio, siamo alla pagina sportiva. La Dinamo accede agli ottavi di finale di Champions League schiantando i polacchi del Torun. Stellare vitali 20 punti e galattico l'immancabile Pierre. Un minuto di raccoglimento prima del match in memoria dello scomparso Luca Rugiu. Il servizio è di Emanuele Floris. Dinamo agli ottavi di Champions. Troppo forti i sassaresi ieri al palacerra di Migni per i polacchi del Torun, lasciati indietro di 20 alla sirena finale. Prima dell'agonismo alla commozione, un minuto di raccoglimento in memoria del tifoso scomparso Luca Rugiu. Poi il match. Confermato lo starting five di domenica scorsa. Sorocas in campo e di Evans, per precauzione, fuori dai giochi. Primo quarto interlocutorio. Banco davanti, ma il Polski rimane in scia. Nella seconda frazione saltano gli equilibri. Gli ospiti, contrariamente al solito, segnano pochissimo per merito della coriacea difesa sarda. 40-33 il punteggio, con tanti errori da entrambe le parti. Terzo quarto nel segno di Pierre, che tra stoppate, ganci e rebounds segna il match. A metà tempo è inequivocabile più 15. E Vitali, l'altro pilastro degli uomini di Pozzecco, che si conferma pure negli ultimi dieci, mentre Torun, nonostante Wright, saranno 20 per lui alla fine, non sa come arginare il team di Sassari. Intanto Pierre sembra onnipresente e gioca per due. 16 punti a referto per lui, ma soprattutto 19 rimbalzi. Top scorer resta Vitali con 20. Tabellone finale recita 91-71. Dinamo all'ottava vittoria in Champions e oggi si attende l'annuncio ufficiale dell'ingaggio di Colby. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, ma prima di salutarvi vi consiglio di seguire tutti gli aggiornamenti sul nostro sito www.canaledodici.it e sulla nostra pagina Facebook, ma anche su YouTube. Grazie ancora per averci seguito e arrivederci. Grazie.